Sì, ok, non sono in splendida forma ma vi volevo ricordare gli appuntamenti di questa settimana. Allora, venerdì 19 vi aspetto in via del Pratello a Bologna, alle Roi du Monde, per il lancio della nuova Schweppes alla Lavanda, ovviamente. Sabato, invece, sabato 20, il grande ritorno del Mamma Mia a Padova presso l'atmosfera. Sarà con me Frenzy DJ Sarangelini, tanta ciccia, insomma, sarà una bellissima serata e c'è soprattutto il ritorno del Mamma Mia a Padova, però questa volta con me. E poi, domenica, invece, vi aspetto a Pisa al castigo per la serata, insomma, degli auguri. Ci faremo i regalini, ci sarà la lotteria, il karaoke, io che sparo cazzate. Ovviamente mi dovrò fare la barba. O posso venire così maschio, col tatuaggio, bello, io maschio, peloso. Ciao amici, mi raccomando, Bologna, Padova e Pisa. Follow me, please.